ciao ragazzi buonasera come va allora io sto facendo un esperimento per vedere se funziona e come funziona questo programma perché forse abbiamo trovato la soluzione al problema di trasmettere su facebook o su youtube così vi accontento tutti va bene siete contenti allora come vedete dal titolo in teoria dovreste vedere un titolo per questa diretta sono qui per voi oggi per rispondere alla domanda che mi fate in tantissimi su sul fatto che io vivo da sola in camper e viaggio da sola in camper e sempre più persone soprattutto quelli che spuntano di nuovi sui sui miei canali social sulla mia pagina facebook mollo tutto e vado a vivere in camper sul mio account instagram mollo tutto e vado a vivere in camper e sul mio canale youtube mollo tutto e vado a vivere in camper dove vi consiglio di iscrivervi e di attivare la campanella in modo da rimanere aggiornati su tutti i video che faccio così non ve ne perdete nemmeno uno allora vediamo ancora ecco c'è i commenti li vedo qua benissimo ciao danni come va io sto bene voi come state siete prontissime già alle sei precise da oggi avete anche la possibilità di scrivervi alla diretta quindi la vedete in anteprima allora vediamo se riesco a essere un pochino più concisa oggi rispetto al solito ai miei 40 minuti allora paura di viaggiare da soli eh oggi vi do cinque consigli su come superarla allora mi sono preparata un po' di cosette perché l'argomento è abbastanza eh vasto altrimenti intanto vediamo insieme che cos'è la paura proprio sul dizionario no eh paura enciclopedia treccani allora la paura è uno stato emotivo consistente in un senso di insicurezza di sbarimento e di ansia di fronte a un pericolo reale o immaginario o dinanzi a cosa ho fatto che sia o si creda dannoso più o meno intenso secondo le persone le circostanze assume il carattere di un turbamento forte improvviso quando il pericolo si presenti inaspettato colga di sorpresa o comunque appaia imminente quindi eh se analizziamo bene intanto che cos'è la paura è semplicemente ditemi intanto se mi vedete bene se mazza quanti commenti già ciao a tutti mi vedete bene mi sentite bene sì dicevamo eh quindi vedete quanti in quante volte dice appare reale o immaginario intenso non intenso forte o meno forte in base alla persona eccetera quindi che cosa vuol dire che la paura come tutti gli stati d'animo è una cosa astratta ed è una cosa che si presenta nei momenti in cui vediamo se se ci arrivate cos'è che ci fa paura di cosa abbiamo paura in generale abbiamo paura di ciò che non conosciamo giusto quindi il primo consiglio il primo consiglio in assoluto per eh superare la paura di qualunque cosa non solo di viaggiare da soli di andare a vivere in camper da soli e di fare quello che faccio io da sola è conoscere meglio quello che vado a fare i sottotitoli coprono la parte migliore di cosa ecco di ciò che non conosciamo perfetto quindi la il primo consiglio ragazzi in assoluto è ehm mi sono preparato uno schermino per essere il più precisa possibile essere preparati conoscere quello che stiamo andando a fare giusto quindi nel caso dei viaggi ad esempio eh intanto andiamo un attimo al secondo consiglio che è quello di fare un percorso eh graduale fisico di preparazione a quello che andiamo a fare quindi in questo caso oggi parliamo di paura di viaggi ma questo lo potete attuare in qualunque fronte e e e vale sempre la stessa cosa per qualunque per qualunque paura io prima di prendere sprizza avevo paura dei cani ero arrivata piano piano avevo avuto un trauma da piccolina mi aveva morso un cane poi altri piccoli episodi mi ero mi ero chiusa sempre di più sempre di più poi ho deciso di prendere sprizza per iniziare a superare la mia paura poi mi sono informata su come il linguaggio dei cani su come socializzano i cani su come pensano e e e e sul appunto sul loro linguaggio ho imparato a conoscerli a capire come si esprimono e la paura è diventata sempre di meno sempre di meno fino a quando adesso non ho paura di nessun cane ok quindi questo è il mio secondo consiglio poi torniamo un attimo al primo non si può andare buttarsi cioè se io ho paura dei cani non la soluzione migliore non è quella di aprire andare in un'area di cani entrare dentro e buttarmi lì cioè sarei una folle giusto quindi prepararmi gradualmente magari la prima volta vado a casa di un amico che ha un cucciolo e e sto sul divano il cucciolo sta lì e lo accarezzo piano piano giusto quindi la stessa cosa per i viaggi se io solo al pensiero di prendere e partire da sola e andarmene in giro per il mondo sono terrorizzata e ho paura la cosa migliore da fare è farsi non lo so un'uscita una scampagnata un'escursione in montagna da sola vicino casa ok poi passerò a fare un weekend da sola sempre a 100 chilometri da casa poi passerò ad esempio a fare un weekend magari prendo un aereo e vado in un altro in un altro stato eccetera eccetera giusto quindi prepararsi fisicamente a superare quella paura il secondo consiglio è anche quello di prepararsi c'è un altro consiglio sempre che riguarda la sfera del prepararsi è la preparazione mentale che adesso andiamo anche ad analizzare insieme nel frattempo cerco va bene ai messaggi ai commenti rispondo dopo e poi un'altra cosa informarsi ragazzi per 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 sconfiggere la paura di viaggiare da soli no eh quello che fa che ho sempre fatto io e che farei io al posto vostro no informarsi informarsi che vuol dire informarsi intanto eh nel posto dove devo andare no eh anche solo informarsi su sullo stato di quella eh di sicurezza di quel posto eh o anche solo informarsi sugli usi sui costumi di quel posto se devo andare in marocco non è come andare a fare la gita a Roma no quindi magari mi informo cerco di capire i loro usi i loro costumi come funziona per per arrivare preparata un'altra cosa per viaggiare secondo me non vi dico che è obbligatorio però è indispensabile conoscere un minimo le lingue io come sapete sono lavorate in lingue prima lingua spagnola e seconda inglese eh lo spagnolo lo parlo benissimo l'inglese l'ho dimenticato tanto perché non non ho diciamo potuto praticarlo come come lo spagnolo ma eh a livello di viaggi mi capisco e mi faccio capire quindi ragazzi con l'inglese e con lo spagnolo potete andare in tutto il mondo quindi anche quello conoscere la lingua di un posto vi fa sentire un pochino più tranquilli eh quindi primo consiglio in assoluto essere preparati conoscere eh cercare di conoscere il più possibile di quello che andiamo a fare di dove andiamo a a viaggiare se devo andare in camper se voglio andare a fare un viaggio in camper essere preparata conoscere il più possibile del camper allora per quanto riguarda i viaggi in camper ho fatto una guida alla sezione consigli e curiosità trovate attualmente il secondo articolo no il terzo articolo dieci eh consigli sicurezza in camper dieci consigli utili ok eh dove soprattutto vi consiglio di vabbè li analizziamo insieme eh dotazioni essenziali quindi come rendere un camper il più possibile sicuro eh per i ladri per i malintenzionati eccetera quindi delle chiusure sicuramente di di sicurezza ehm sia molti parlano della sicurezza ecco ci stava arrivando eh sia eh sicuramente per quanto riguarda le chiusure interne e le chiusure esterne del del camper eh un allarme sicuramente o avere un cane con voi a maggior ragione se è un cane da guardia o se è un cane di grandi dimensioni però state attenti perché se volete viaggiare eh all'estero con un cane eh a non prendere a a a scegliere a possibilmente non scegliere dei molossi perché in alcuni paesi europei vi possono fare problemi ma ci sono degli ottimi cani da guardia e vi raccomando adottateli non li comprate eh di altre razze di altri ehm come dire di altre eh tipologie che sono molto attaccate ai padroni eh ad esempio sprizza non perché è piccolino ma eh ha una un un indole del 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 lui è un bastardino però un indole molto attaccata al padrone e molto sulla difensiva guai se lui sente un rumore fuori comincia a ringhiare in più eh dotato eh ho l'allarme e tutto ehm un'altra cosa un altro consiglio eh per chi vuole andare a vivere in camper o viaggiare in camper o viaggiare da sola e sono le precauzioni infatti ora stavo arrivando eh al al secondo consiglio le precauzioni che vuol dire è ovvio ragazzi che se devo andare eh a fare un viaggio da sola in camper all'estero non parto così all'arrembaggio ma come minimo l'ABC mi porto uno spray al peperoncino dietro mi porto un fischietto sembrano cavolate però voi immaginate intanto non vi sognate magari una donna da sola ad andare a parcheggiarvi in posti sperduti e per questo potete andare a vedere e magari vi lascio il link alla fine di questo video un altro video che ho fatto sul canale YouTube sul mio canale YouTube eh che si chiama consigli sulla sosta libera in camper dove dico appunto questo non vi andate a mettere in posti isolati mettetevi sempre eh davanti a un'abitazione davanti a una caserma o vicino ad altri camper quindi eh dei ehm degli oggetti utili da avere sempre dietro soprattutto se siamo una donna da sola che andiamo in giro per per il mondo in camper ma anche eh non in camper sicuramente uno spray al peperoncino un un fischietto ci sono dei fischietti molto potenti in circolazione e ci sono anche delle torce che magari poi vi lascio il link in descrizione eh ci sono delle torce super potenti che se voi ad esempio se dovete uscire il cane a mezzanotte no e siete in un posto un po' così con questa torcia super potente intanto eh chi vedete bene fino a lungo raggio chi c'è chi non c'è nei rintorni e poi sono talmente potenti che stordiscono anche cioè che una persona non si può avvicinare troppo e e guardarvi dritta quindi un malintenzionato no ovviamente non è che vado in giro con la torcia ad accecare le persone ecco e poi sicuramente ragazze soprattutto per le ragazze ma anche per i ragazzi un minimo una pistola una mazza però li andiamo sul sul sull'illegalità quindi io magari lo faccio ma non ve lo consiglio giusto ehm però un consiglio utile sicuramente che vi posso dare sempre per per quanto riguarda le precauzioni è un corso di difesa personale eh o comunque l'abc della difesa personale se non avete tutto sto tempo di prepararvi eh o il tempo la voglia o i soldi per andare a farvi anche il corso di difesa personale comunque su youtube ci sono dei tutorial molto validi che vi sperano quantomeno l'abc no quindi con la postura da tenere in caso si dovesse avvicinare una persona sospetta come mantenere eh l'equilibrio il più possibile perché la prima cosa che dobbiamo eh fare in caso di aggressione è cercare di non perdere l'equilibrio giusto eccetera eccetera quindi essere preparati e studiare bene il percorso dove si va dove andiamo possibilmente conoscere la lingua la cultura e le traduzioni e le tradizioni di quel posto prendere precauzioni quindi dotare il camper il più possibile di sistemi di sicurezza di chiusure di allarmi di telecamere di un cane qualunque cosa portare sempre dietro con noi degli attrezzi che possono esserci utile quindi uno spelpe per un cino un fischietto e una torcia terzo consiglio ehm che sembra scontato ma non lo è affatto perché a volte mi rendo conto da quello che che mi scrivete che forse non lo è affatto fidatevi di tutti ma mai di nessuno nel senso io è vero che sono sempre in mezzo a persone che che sono sempre eh che vi dico tutto quello che penso tutto quello che mi passa per la testa ehm che sono sincera però ragazzi se voi notate io a parte vabbè all'estero dove magari sono in un posto dove difficilmente qualcuno che mi segue può arrivare nel posto dove sono nel momento in cui ci sono io non dico mai dove sono ad esempio oggi mi ha scritto uno ah hai fatto vedere il camper hai fatto vedere che c'è lo scooter sul camper così malintenzionati i ladri allora intanto i ladri devono sapere dove sono prima di tutto devono sapere dove sono nel momento in cui sono quindi io non dico mai dove sono quando sono in Italia metto sempre i post le foto le storie le metto sempre in differita e quando arrivo in un posto con la gente del posto mi fido di tutti ma mai di nessuno quindi faccio amicizia con tutti chiacchiero con tutti eh socializzo con tutti ma mai con tutti sono completamente sincera la eh io quando arrivo in un posto all'inizio dico che non sono da sola che stanno arrivando dei miei amici che mi deve mi deve raggiungere il mio fidanzato che sono sposata eh se se andate in Marocco e siete da sole il minimo l'abc vi mettete una fede al dito mai dire tutta la verità non andate in giro a dire che state viaggiando da sole o da soli dite che siete in compagnia con amici che siete lì per lavoro che eh o magari io non è che la prima persona che conosco in giro per per la Spagna o per il Marocco gli dico no sai perché io vivo in camper da sola e il camper ce l'ho parcheggiato eh in via x numero y cioè sarei una pazza no a fare una cosa del genere quindi eh fidatevi di tutti ma mai di nessuno un'altra cosa se vi allontanate dal posto eh dove lasciate il camper con altre persone evitate di fargli sapere qual è il vostro camper ok questo è l'abc eh ci vuole un minimo un minimo di cautela e un minimo di ehm buonsenso ecco quindi questo era il terzo consiglio fidarsi di tutti ma mai di nessuno e il quarto e il quinto che ve li ho accennati prima e ve li eh ve li rispiego meglio adesso e ve li assemblo di uno abbiamo già parlato quello di eh fare un percorso graduale quindi di non prendere mollare tutto e andare a vivere in camper ma di questo ne parlo anche nel video di cui vi parlavo prima eh consigli sulla sicurezza eh della sosta libera in camper eh o come mollare tutto e andare a vivere in camper anche in quello parlo di questa cosa eh bisogna fare un percorso sia fisico che mentale graduale quindi il quarto consiglio è fate un percorso non non prendete partite da soli e andate dove vi pare piace per una settimana sarebbe da folli perché come abbiamo detto all'inizio il primo modo di sconfiggere una paura è conoscere quella paura no? Quindi se noi eh abbiamo paura dell'ignoto e ci buttiamo nell'ignoto è ovvio che stiamo già partendo col piede sbagliato quindi facciamo un percorso fisico graduale che ci porta ad allontanarci da casa un paio d'ore e non di tanti chilometri e poi sempre più chilometri e poi sempre più giorni giusto? Io quando ho mollato tutto e sono andata a vivere in camper i primi tre mesi sono state in Italia ho girato tutta l'Italia poi mi sono imbarcata in Spagna poi dalla Spagna mi sono imbarcata in Marocco ok? Però non è che prendi parti così e te ne vai in in Slovenia eh col camper eh te ne vai in Asia col camper da sola giusto? Quindi magari queste cose possono sembrare scontate ora che le dico però io mi rendo conto che una delle domande veramente più eh che che ossessiona di più le persone è ma non hai paura a viaggiare da sola ad andare in giro da sola? E quindi ragazzi eh il quinto consiglio invece è eh allenare la mente perché anche la mente va allenata a una cosa del genere e se vi andate a leggere scusate ad ascoltare i video che ho fatto ieri e l'altro ieri e li trovate sia sulla mia pagina Facebook mollo tutto e vado a vivere in camper ah ho dimenticato di attivare i banner lo sapete che ho i banner? Eccoli guardate che carini non parlo con te cucci madonna ogni volta che uso amore non parlo con te vieni seguimi eh ah ho sbagliato seguimi mollo tutto e vado a vivere in camper su Facebook Instagram e YouTube vi piace? Che carino che carino eh e quindi dicevo ragazzi aspettate che torno nei commenti eh come ho fatto anche ieri sulla mh e l'altro ieri sul video eh cinque consigli eh cinque motivi per essere sempre felici eh dove parlavo dell'importanza del qui e ora del momento presente un altro modo di eh superare le paure mi ha detto che è senza acqua cioè va là nella ciotola fa così col naso fa rumore per dirmi oh bella vedi che sono senza acqua oh bello aspetta che sono in diretta va bene chi non lo conosce ancora spritz eccolo qua il mio cucciolattino tu hai paura amore di viaggiare con mamma? Guardate guardate come 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 fa la guardia il cagnolino cagnolino c'è gucci? Dov'è il cagnolino? Cagnolino? Dov'è il cagnolino? Di solito quando quando gli dico il cagnolino fa quindi se io sento rumore sospetto fuori dal camper lo faccio lo faccio ringhiare gli dico dove è il cagnolino? E lui comincia dicevo anche il discorso ora anche il discorso di allenarsi mentalmente no? A una cosa del genere a viaggiare è importante quindi l'importanza di rimanere nel qui e ora magari andate a a vedervi due video che ho fatto cinque motivi per essere sempre felici dove tratto appunto lo sentite aspettate che gli metto l'acqua dove tratto appunto il tema vieni qua l'acquetta dove tratto appunto il tema dell'importanza di rimanere nel qui e ora di non farsi le seghe mentali però è importantissimo ragazzi quindi come si allena il qui e ora magari facciamo anche un video specifico no? Però con la meditazione sicuramente quindi se voi andate ad approfondire il discorso del qui e ora che come sapete aspettate dov'è dov'è dov'è? ho qui tatuato sul polso quello vi aiuta tantissimo perché se io prima di partire mi faccio prendere da oddio e chissà e poi che succede ci sono i malintenzionati e poi e magari mi entrino nel camper e se poi e se poi e se poi e se poi ragazzi ha voglia che mi informo sul posto dove devo andare mi porto lo spelpeperoncino e non partirò mai quindi qui e ora voglio partire non vi fate bloccare dalla paura fate informatevi sul posto dove andate fatelo con con la massima cautela prendete le dovute precauzioni soprattutto se andate in camper soprattutto se andate all'estero soprattutto se andate fuori dall'unione europea però non vi fate terrorizzare dalla paura fatelo a piccoli passi sia fisicamente che mentalmente ragazzi i consigli per oggi sono finiti vi vi dico vi ricapitolo allora trovate l'articolo sicurezza in camper 10 consigli utili sul mio blog www.mollotuttevadavivincamper.com trovate questi sono approfondimenti il video come mollare tutto e come mantenersi sul mio canale youtube lo vedete qua nel banner che sta scorrendo sul mio canale youtube mollotutevadavivincamper e trovate anche c'è una playlist addirittura che potete attivare trovate anche il video consigli sulla sicurezza della sosta libera in camper sempre sul mio canale youtube in più ragazzi vi ricordo che se vi scrivete al gruppo viaggiando si impara di facebook avevo già organizzato il primo viaggio in andalusia e portogallo che doveva iniziare ora l'11 di aprile andava da pasqua al 25 aprile purtroppo l'ho dovuto annullare che era praticamente il primo viaggio studio che organizzavo di una serie di viaggi studio che ne organizzerò uno al mese in base a dove sono se sono in spagna l'organizzo in spagna se sono in portogallo l'organizzo in portogallo quando tornerò in italia li farò in italia sono dei viaggi studio dove io vi faccio da guida non turistica perché non sono una guida turistica da guida non ambientale perché non sono una guida ambientale ma da guida diciamo spirituale diciamo campeggiatrice chiamatela come volete dove potete venire con me e con con i ragazzi di voi che parteciperanno quindi in gruppo fare il primo viaggio con qualcuno di esperto quindi per lanciarvi per sentirvi sicuri ok l'ho fatto proprio per chi vorrebbe farlo ma ha paura per quei camperisti per chi ancora non ha il camper e non sa da dove iniziare per i camperisti che hanno il camper ma sono sempre solo andati in campeggio quindi tra quattro mura nella sicurezza di di quattro mura perché anche se è il camper ma vai in un campeggio se comunque tra quattro mura o per chi fa libera ma non l'ha mai fatta all'estero o avrebbe paura di andare in marocco da sola o fare viaggi particolari da solo ecco allora viaggiando si impara e è nato proprio per questo è la prima scuola in italia di sosta libera e di viaggi in camper esclusivamente in libera tra l'altro è anche molto 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 economico perché partiamo da 20 euro al giorno per ogni equipaggio quindi se siete due tre su un camper sono sempre 20 euro al giorno quindi vi piace questa cosa quindi immaginate che io sono in italia ad esempio voi avete il camper ma non c'è gente che l'ha ereditato che mi ha scritto danielo ereditato il camper da mio marito da mio fratello però non l'ho mai guidato però non so da dove iniziare benissimo quando vedo in italia perché ormai farvi venire voi in qua mi sa che non è più fattibile quando vedo in italia organizzeremo uno al nord uno al centro uno al sud dove venite con me in più organizziamo delle attività durante il giorno le escursioni quindi sarà anche divertente faremo i tornei canteremo faremo il fuoco faremo canteremo con la chitarra con ora ora voglio iniziare anche a prendere le lezioni di piano lezioni guarderò qualche tutorial così per strimpellare ho trovato un piano carino da camper e quindi ragazzi le soluzioni ci sono sempre tutto si impara e per qualunque cosa qualunque dubbio ancora scrivete tranquillamente nei commenti qui su facebook dopo estrapolerò questo video lo metterò sul mio canale youtube mollo tutte vado a vivere in camper anche lì se avete dubbi qualunque cosa scrivetemi scusate se non rispondo sempre a tutti però se andate a vedere sulle mie storie tra ieri solo ieri ragazzi solo ieri questi sono i messaggi che ho sulla mia pagina facebook mollo tutte vado a vivere in camper solo ieri questi sono i messaggi che guardate li vedete uno e due in un giorno ok quindi se non rispondo sempre a tutti ho dovuto mettere il messaggio automatico che dice grazie di avermi contattato però andate prima a fare una ricerca sul mio blog sul mio canale per vedere se ci sono già le risposte alle domande di cui avete bisogno quindi cercate di non intasarmi di domande così andate prima sul blog l'ho fatto apposta andate prima sul mio canale youtube l'ho fatto apposta vedete se c'è già la risposta che cercate altrimenti mi scrivete quando viene in america lo faremo anche in america va bene e facciamo il barbecue facciamo tutto quello che volete ragazzi se vi è piaciuto il video fatemelo sapere se non vi è piaciuto fatemelo sapere pure fatemelo sapere pure però con educazione altrimenti vi blocco e iscrivete mi iscrivetevi ai miei canali youtube instagram facebook e vi mando un bacio grande grande ci vediamo domani sempre alle 18 con luca stella che è un esperto espertissimo di caravan che per chi non lo sapesse la differenza da un camper è che non ha la guida sarebbe la roulotte per intenderci e tratteremo il tema si può andare si può mollare tutto andare a vivere in una caravan quindi in una roulotte perché è anche una buona alternativa a chi vuole andare a vivere in camper però o viaggiare anche solo in caravan rispetto al camper però magari a qualche dubbio domani risponderemo a tutte le vostre domande va bene ciao ragazzi buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.